Bella a tutti ragazzi, qui Reign e benvenuti a questo nuovo video Oggi siamo qui tornati su Mv3 dopo tanto tempo Con un dominio su una nuova mappa Aspettate, fammi assetti questo qui Ecco, una nuova mappa uscita ieri su Call of Duty Elite Si chiama Foundation, credo si Questa si chiama, no, questa si chiama Sanctuari Sanctuari e poi c'è questa Foundation E ancora non l'ho provata perché a dire la verità L'ho scaricata e poi mi sono abbioccato Quindi non c'ho avuto tempo E quindi siamo qui a provarla insieme a voi Ecco subito muoio Allora, vediamo un po' Perché mi imbomba tutto? Ah no, perché è l'HDPR che va indietro Ok, allora Oh, guarda che singarello lì all'angolo Vabbè comunque Mi scuso per non aver fatto più video di Call of Duty Ma, cioè, come avevo detto molte volte Cioè, l'ho ripetuto proprio un'infinità di volte Non mi funzionava Non mi funzionava perché o mi si bloccava o... Insomma, c'avevo l'HDPR che sbroccava E qui non l'avevo visto là La Bouncing Betty Sono veramente un cieco zingaro Allora, vediamo un po' qua Visto che la serie Minecraft vi interessia Vi interessia Perché Guardalo che zingaro Cioè, io queste mappe, no? Le odio Le odio perché non... Cioè, c'è tutta gente, no? Che campera Cioè, non lo so Forse c'è gente Cioè, c'è solo c'è gente che gioca A cercare di distruggire il veterano No, che è capace a campera Ma, voglio vedere questo dov'era Cioè, che zompa sui tetti, va Ma, va, te la piande il culo, va Vabbè, comunque stavo a dire Ho visto la serie Minecraft Mi piace Vabbè, quello è l'importante Intanto 2-4 Dei cercare di Definire Almeno Cioè, ma con che cazzo di classe sto giocando? Con i giubbetti antiproiettile Vabbè, non ci fate caso Vabbè, quella è la classe che c'è Il gioco a Chad Mi sono sbagliato classe Muo vedo un attimo Che so Ah, ecco la classe mia Vaffan, bene Ho sbagliato classe Vabbè, comunque ora Finisco di giocare con questa Allora Poi altre cose di Spero di aver risolto Con il problema dell'HTPPR Vedi, poi sono gigantesche Queste mappe Cioè, corri Poi sembra di stare a Battlefield Vai Corri, corri Finisci più Cioè, ancora Ci mettono l'arberi De Cristo Dai Ma quando arrivo? Porco Giuda L'altra mappa invece è piccola Cioè, l'altra Quella Dai Veloce Vai E poi mi sbuca il Cristo dietro Che stava lì all'angolo Con l'MP7 d'oro Perché lui è Progamer, no? E niente Così Così loro si divertono E io la prendo al culo Come al solito Perché Non riesco a camperare Lo scarelli Che fa le zaganelle A due mani Yuppie 3-6 Fa proprio le pippe Vai Vabbè, comunque Cioè, io sto a fare Sto risultato del cazzo Perché pure Non la conosco la mappa Non la conosco assolutamente Non so nemmeno dove So solo che È un santuario greco Perché l'ho letto Nella descrizione della mappa Allora Dai, cerchiamo almeno Di prendere Un missile Predator Se loro si fanno vedere Tiriamo fuori questa Perché lo scarelli Come ho detto Fa proprio le pippe A due mani Guardalo Ma non ti vergogni Sotto al porticato Oh Ma vai morì Porco giuda Comunque C'ho la connessione a due Perché sto a caricare un video Quindi Se me lo permettete Voglio dare anche la colpa Alla connessione E qui non tanto Che si è volatilizzato Nel nulla Ma vai morì Guardalo Ma già Tu madre Quella grande Quella grande Bellocciona Che Quando corre Gli applaude Dai Però Non è possibile Cioè La gente che Vaga con la mirames Oh Oddio Mi è partito L'analogico Oggi ho fatto Una sterzata Proprio alla Alla Non lo so Dai 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 Ma chi è quello Gesù Ah no Pensavo che era Jokernot Qua stava ancora 87 La partita si Si dà per noiosa Però Non è colpa mia Regà Se fanno le mappe Di Di Butterfield In Call of Duty Cioè Cristo Oddio No Ma io dico Se uno voleva Core Per le mappe Perché si volava Nella Nella corsa Cioè Giocava A Butterfield Ah Comunque Mose Ho risorto Con l'HDP Poi E mo Faccio pure Perché Partita A Butterfield Ora mi compro pure FIFA Faccio un po' De De Partite R Là Tanto Per Tanto Per Dai Però Sto allo Spawn loro Su Non c'è nemmeno Io catturo Vaffanculo Dov'è Questo Guardalo Cioè Questa è la gente Che gioca A queste mappe Cioè Manco Manco È Bono Perché Manco È Bono Perché Gli siamo passati In 25 Ha sparato solo a me E lui sta lì Si diverte Lui È Bravo È bravo Lui Sì È bravo Tanto bravo Cioè Non è possibile Io ho comprato L'elite Solo perché Il capoclam mio Mi ha fatto Due coglioni Paurosi Ecco Amo C'è pure Guabbio Non c'ho Ecco C'ho la connessione Del cazzo Però io sono superiore E c'è Sta il terzo Che non lo noto Guardava per terra Lui Formiche Su Corri Dai Almeno sto a 9-9 Poi Il mondo cascas Guardi Devo finire in positivo Devo finire in positivo Guarda Tanto Mi sporo Corgo qua E ci sta il Gesù Olè Tanto 19 Rividi Erba Rabba Sei uno zingaro Guardalo Guarda Cioè Questa È la gente Guarda Questa è la gente Che gioca su questo Queste mappe Ecco Quello è un esempio Prendete Queste mappe E quella gente là Cioè È così Non c'è Non c'è Proprio Non c'è Via di scampo Se devi giocare Su queste mappe O camperi O lagni tutta la partita Come sto a fare io Però la nave E preciserei del cazzo E preciserei del cazzo Il movimento È sempre lui Guardalo Guardalo Che cane morto Un muoro Ecco lo sapevo Vabbè Vabbè Tanto mi avrebbe Inculato 14-12 Partita Che sta Sul Racco 1 E 2 E tirano le bombe Ascecanti Gesù E Giuseppe Maria Tirano tutto Tirano Io glieli tiro giù Le bestemmie Loro glielo tirano giù Con le bombe Oh dai È quasi finita Meno male Sta diventando una tortura Questa partita C'è proprio le frustate Sulla schiena Se no Proprio i carci nelle palle C'è i carci nelle palle È quella sta partita Dai veloce 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 Voglio fare un altro episodio Sull'altra mappa La voglio provare Dai 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 Che mo Che l'HD Piore funziona Tutto questo Dove sei infilato Dai Dove stai Eccoti Quanto sei Bello Oh ma vai morì Comunque la connessione Cioè regà Io ho la connessione 2 L'ho detto Perché sto caricando video Ma Cioè se non si ha La connessione minima 3 Non ti muorono manco A tirargli le granate In bocca eh A parte che Te fanno hitmarker In continuazione Con le granate Porco Tinci Bacco Dai è finita Oh ma è finita Sta partita Dai Che prima che Faccio il risultato Guarda Guarda Cioè guarda com'è finita Quello ha fatto 8-17 Cioè c'è la squadra Che proprio Pensa Sta nel mondo Dei mini poni Con la testa Dai pensano Mi ha le poni Dai così Stanno lì Contenti Guardano tutti i mini poni colorati Oh Con la bavetta La Homer Oh che cazzo Dai Oh No No Mi sbrago Qui per terra Manco Le pazucate Mi alzano eh Cioè non posso Guarda che sei un cane Ti devi muovere il culo Hai fatto Quanto hai fatto 3-5 In una partita di dominio 3-5 Ma manco il più Ma il più nabbo dei nabbi Fa 3-5 Ma alza il culo E muoviti Coglione No Cioè non posso Andare Oh Non mi metto qua Dai Su No Gli ho sparato Questa è la connessione La connessione Non c'è altro modo Perché cioè Io gli sparo Gli ho sparato Un caricatore Stava ancora all'ampia Di Bazzicava in giro Vabbè Regà Scusate per le incazzature In questa mappa Non so se vanno divertito Vanno fatto Ro del culo Io spero che vanno divertito Vi consiglio Di non comprare Queste mappe del cazzo Cioè non ve le comprate Manco se ve le regalano Cioè se ve le regalano Gli le tirate in faccia Capito Cioè proprio così Quindi se il video vi è piaciuto Mettete un bel mi piace Magari Vedete il mio canale E iscrivetevi Quindi Quella Rain Bella